ciao a tutti sono il mio fantasi dupo da zero e da oggi nel mio canale farò vedere diversi giochi spero a tutte fps e anche golli d'azione pubblicherò un video al giorno in più pubblicherò dei trailer di diversi giochi che molto probabilmente ci giocherò qui sotto scrivetemi i giochi che volete che giocassi e io sceglierò uno di quelli ci giocherò vabbè per oggi è tutto iscrivetevi il mio canale mettete like cliccate al campanellino per non perdere il video ciao